Dispiace davvero e ci credevamo fino in fondo che il Presidente Fedriga e il centrodestra cambiassero idea. Per la terza volta in questa legislatura hanno bocciato la legge sulla doppia preferenza di genere, una legge che è valida in quasi tutte le regioni italiane e vale per tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia. È l'ennesimo errore, la dimostrazione di una chiusura, la dimostrazione che evidentemente qualcuno non vuole perdere il posto, ma è un' bisogno della carica di concretezza e di empatia che le donne oggi porterebbero alla politica e i cittadini sanno quanto i partiti di oggi e la politica di oggi ne abbiano bisogno.